io ho fatto fatica ragazzi perché anche se dicono che è il versante meno duro però vi garantisco che l'ultimi tre chilometri anche se il motore era al massimo io ero a tutta bolliva all'acqua ero veramente in condizioni però una salita una salita insomma dal giro d'italia da che da spettacolo mi ricordo qualche anno fa prima della pandemia chiaramente che c'era un sacco di gente che era stata proprio una cosa spettacolare però comunque anche ieri ha avuto il suo fascino è una giornata un po di quelle tremende come si dice noi toscana giornata dove ci vuole anche la grinta del ciclista del corridore ci siamo divertiti e poi i professionisti hanno dato dato molto spettacolo ciao ciao Grazie a tutti.